Non hai nemmeno voluto fare l'amore con me. Non ti sei neanche voluto togliere i vestiti. Avevo bisogno di te. Ehi. Sì, questo attrezzo si chiama dialisi peritoneale continua. Significa che devo attaccarmi a due sacche e dializzarmi da solo ogni sei ore. È quello che ho al posto dei reni. Mi hanno sparato qui e qui. Grazie.